Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Diego Fatema su un nuovissimo video Oggi siamo in Minecraft Cercherò di essere meno arrabbiato possibile perché sto registrando questo video dopo il video della serie principale di Minecraft Non sbaglierò niente ma non è andata molto bene Comunque siamo in una mappa e siamo alle Hawaii All'Hawaii? Credo che siamo all'Hawaii, non mi ricordo dove cacchio siamo Ah, Onolulu, sì, siamo all'Hawaii C'è scritto Onolulu quindi sì Siamo alle Hawaii, è una mappa, proprio come Tokyo Cioè è come Tokyo però è... Capito? Vediamo una bella macchina, da quello che vediamo subito, una bella macchina, una Audi, credo che sia un Audi, molto bello Poi c'è questo dietro che si vuole fare... Non si fa, non si fa Sozzo Cioè guarda proprio dove... Non si fa, ma che cacchio dici? Putiamoci via la macchina, se no quello fa il sozzoso con la macchina non va bene La macchina sembra essere migliore di quella di Tokyo, cioè... Oh... La Ferrari Ma che mi dici? Non è velocissimo Miglia quante macchine che stanno La Batmobile? Questa qua sembra la Batmobile Non mi dite che non è la Batmobile, è che sembra la Batmobile Questa è una Ferrari, io voglio la Batmobile Cioè la Ferrari è bella e tutto, ma la Batmobile ma... Vuoi mettere? Vuoi mettere? Bellissima Si baga un poco Ma comunque è figa Ora, non mi aspetto nulla di speciale come Tokyo Perché non credo che sia una mappa gigante Invece quella di Tokyo era veramente grande Se non l'avete visto, dopo lo metto alla fine con i consigliati Che vi appare qui Oppure ve lo metto alla fine proprio che esce il coso Esce il coso E poi escono i cosi E voi vedete il video Capito? Se non avete capito, avete capito lo stesso Qui c'è un campo da calcio Almeno credo Oppure un campo da bowling Baseball Baseball, non bowling Cacchia si dice Baseball C'è una macchina verde Dovrebbe essere un campo da baseball Che c'è tipo quel buco gigante Quindi dovrebbe essere Un campo da baseball Ora, non lo so Perché in Hawaii non ci sono mai andato Non posso fare un confronto con niente Rugby Football Cacchio è? Non lo so Credo che sia Rugby Football americano Vabbè, tanto non mi piacciono amici sport Quindi mi sbarca la miglia Facciamo una visitina veloce A tutto quello che possiamo vedere Che se è come Tokyo Guarda Allora è gigante come mappa Gigante, gigante, gigante Questa è una caffetteria Credo Stanno tutti i palazzini Questo non so Che cos'è un ufficio Questo è Non so Credo che si join Iloni Palace Palazzo Iloni Ioni Ioni Fatto bene C'è un diamante Qua, vabbè Credo che sia tutto quanto Non è che ci sia qualcosa di speciale A me non credo Questa c'è un'armatura super forte All'improvviso Non lo so Però Sono Come abbiamo visto In una mappa di Tokyo I palazzi Sono fatti in modo normale Non c'è nulla di alterato Quindi Io spaccherei qui E scapperei via Perché è inutile vedere Posso fare un trickshot E la madonna Non ce l'ho fatta Sono quasi anche morto Bene Non lo devo fare più Perché sono stupido Lion A Rboreumdom Dovrebbero esserci leoni Qui Dovrebbero Però non vedo nessuno Che alle Hawaii Stanno i leoni All'Hawai È impossibile che alle Hawaii Stanno i leoni Che è Africa Non è impossibile Non è che mentre ti fai il bagno Viene un leone nell'acqua E ti ammazza Non è impossibile Oddio sono scimmia Macchina con la scimmia Talzani si è evoluto Guarda che bello Mamma mia è fortissimo Quello che cos'è Lì Oddio Una cosa gigante Che cosa Dovevo vedere la force Che cos'è Una tower La Tokyo Tower Anche se non siamo a Tokyo Che è qua Fermi Fammi vedere Hawaii State Capital Capitale dell'Hawaii State State Capital Vabbè È un Qualcosa Della capitale dell'Hawaii Ma se siamo alle Hawaii Comunque dovrebbe esserci Una bella spiaggia Io non vedo le belle Vedo fiumi Laghi Non vedo spiagge Com'è possibile Ah non ho fatto per i semafori Guarda Che figo Questo dovrebbe essere Aloha Tower Molto bene Molto bene Non ha un senso Però è molto bello Io voglio una spiaggia Comunque Cioè io sono venuto All'Hawaii Ho pagato i bigliatti Di 500 euro In più tutto quello Che ho fatto E tu non mi vuoi Fare la spiaggia Cioè che cosa viene a fare L'Hawaii Se non vai alla spiaggia Che cosa vai a fare Alpha Tower Observation Duck E poi non c'è niente Tu tu mi devi spiegare L'utilità di Altri diamanti Cioè qua sto trovando Più diamanti qui Che nella mia serie principale Guarda tu che bella cosa Aeroplano Aeroplanino Lo voglio Lo voglio È molto mio Deve essere mio Devo volare Devo fare un botto Di immazzate Devo andare per forza Per forza Non posso non andarci Per forza Come ci posso salire Si sale Vedi si sale Troppe diamanti Mi sto preoccupando Cioè Forse Tutti questi diamanti Che sto trovando adesso Non li troverò mai più Nel mio mondo E questo è molto brutto Se succede Ok già sono in volo Devo decidere dove andare Forse vado per di là Che la continua Che è qua Volo un attimo Amico Volo a basso Per un momento No La spiaggia Una baita Una spiaggia Che cacchio è Quella è la spiaggia Quella forse è qualcosa Che ha a che fare Con la spiaggia Quello è Un Boh Una Prendi la barca No Forse mi ha ascoltato Il gioco Questa Ma che è Una barca Cacchio è sta cosa Una cosa Una nave di crociera Piccola Hello Permesso Come sono morto Come sono morto Come sono morto Tu mi devi spiegare Come sono fatto a morire Come Ma dove sta la mia macchina bellissima Dove è finita Come mi sarebbe permesso Di farmi morire A caso E la mia macchina Non ci sta più No adesso sono arrabbiato Sono arrabbiato Basta Non ce la faccio più Adesso spacco tutto Credo che sia La cosa migliore da fare Mettersi in creativa In questo momento Credo che sia la mia cosa Migliore da fare E che dobbiamo esplorare Tutto quanto E se stiamo in Survival Moriamo 30.000 volte Al secondo Quindi non va bene Questa non l'abbiamo vista Per esempio Che cos'è The Bishop Museum O Byshop O Bishop Non so che cacchio Significa Però È un museo Io scappo Che non c'è niente di buono Guardiamo Nella cosa Che potrebbe aver aggiunto Qualcosa Oltre le macchine Che hanno giunto Non vedo nulla Ci sono degli aerei C'è il jet privato C'è questo Telefono Pronto? C'è nessuno? Hello? Polizia C'è Spider-Man Da sopra È caduto Non venire più È morto Io sapevo Che c'è qualcosa in più Vedi? Che cos'è questo Burer Non Il jetpack No Il jetpack Venti bene Money Altra cosa? Credo che sia finita La roba da prendere No? Sì C'è il jetpack Io me lo metto Si può mettere il jetpack? O è fake? Credo che sia fake Perché è fake? Ma perché? Ma è tutto contento Ma che cacchio Se questo cosa scava veramente Io Amore Tutta la vita Però non ci posso Ah ci posso entrare Spacca Spacca davvero? No Che figa No raga Io sto No raga No no ragazzi Ragazzi Che figata Che figata Ma io Voi mi pensate Avere questo coso Nel mondo reale Cioè in un mondo di minecraft Quanto sarebbe figo E facile scavare Cioè guarda qua Scavando tutto In pochissimi secondi E poi Se ti vuoi fare una costruzione Te la fai in un secondo Perché non ci vuole niente Va Spacca tutto Spacca Io continuo a camminare Con sto coso Perché mi piace troppo Ragazzi Mo però Però Dobbiamo Abbandonare Guarda che figata Vediamo il danno che ho fatto Guarda che figo Cioè se non c'è il piccone Prendi quello Scava tutto Un bordello Ora Cambiamo veicolo Anzi Voliamo Perché Però aspetta Uno E' buono E' caro Ma se sto gioco E' stupido Uno si arrabbia anche Ecco Dobbiamo andare a vedere Altre cose Che siamo riusciti a vedere Un po' di cose Ma non tutte Noi stavamo Per di qua Allora con l'aereo Quando siamo passati con l'aereo Stavamo qua E ok Poi siamo passati Però non abbiamo visto dentro Che cosa sta dentro Questo è un templino Che cos'è E niente Ok Una cosa completamente inutile Noi stavamo Quella direzione E siamo morti Come dei idioti E noi stavamo Per andare Lì Da quello Che mi ricordo Forse stavamo Per andare lì Sì Sì stavamo Per andare qua Questo è un supermercato Wakiki Aquarium E questa è la zona Della zona dell'inizio Quindi sono venuto Per niente Aspetta 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 Che cos'è quello Una strada Questo è un cartello Poi la strada continua Non è che ci porta Da un posto nascosto Vedi Sono fortissimo Ah Continuo Eh Questa è la guerra Hawaii Adesso siamo arrivati Nella Hawaii Eh Sapevo io Che non era finita qua Ste case Sono bellissime Per esempio Oh c'è il trattore L'abbiamo trovato Spacchiamo la casa O il trattore Ma spacco tutto Ma sì Ma che ce ne frega Ma che sta qua sotto Ma vai che che mano Quei idioti Quei Quei trilliardari Che c'hanno ste case Lo spacco tutto Si capate Boom Guarda qui Scappo via Il jet Ma tu mi stai dicendo Che c'è un jet Eh no il jet Si chiama jet Coso privato Non so se si chiama jet Però è un coso privato Lo jet Lo yacht Lo yacht Lo yacht Lo yacht Lo yacht Lo yacht Io non so le parole Lo yacht Lo yacht Ecco Lo yacht Si chiamava Lo yacht Basta dire yacht Che lo dice 100.000 volte Qua sono tutti i palazzi Quindi credo che sia inutile Visitarli Ma c'è un mcdonald Cioè io Ho un po' di fame Cioè sto girando da 50 anni No Vorrei un po' di mangiare Un po' di mcdonald Un po' di cose da mangiare Giusto niente Cioè io Io mi rabbio Perché a Hawaii Dovrebbe starci un po' di roba Questa è un hotel Che cos'è questo qui? Manoa Falls La cascata Ok E qua sono le cose Che stavano prima I palazzi completamente uguali a prima Un palazzo sul mare Quello lì Poi c'è una statua A lei è un mondo normale Cioè il coso del mondo normale Sì Poi invece c'è una fontanella Una smart Una mini macchina Una fontanella questa qua Sì una mini fontana Poi tutti i palazzi piccolini Un coso E Tutto tranquillo Tutto normale Non c'è problema Di uno lo abbatto mobile Tutto normale Però non ho trovato niente Che mi ha ancora colpito di brutto Dice La macchina da moto La moto d'acqua La macchina da moto Ma sono proprio stupido La moto d'acqua Com'è possibile Che non si spaccare tutto Eh Perché vola Perché non Perché volano gli aerei Oh Ecco qua Nel senso Gli aerei volano No Però nel senso Non sopra di La mia testa Cioè Ho detto Perché volano Vabbè È inutile spiegare Avete capito Non vedo niente Mi sono rotto già le palle Oh Sono in creativo Meno male Questa è la città normale Quindi credo di averla visitata Questa qui E O no Non mi ricordo Queste cose Non le abbiamo visto Questa qui Hm Qui No Vabbè Comunque a lungo andare Credo che sia tutto quanto uguale Le cose importanti Le abbiamo già visitate La spiaggia Le abbiamo viste Le cose Le abbiamo viste Quella cosa sta qui Quindi abbiamo già visto tutto Le uniche cose Che ci mancano Forse sono Delle cose da vedere Boat House L'abbiamo già vista L'aereo L'abbiamo visto Il telefono pure La Questa sì Il raft No Quindi ce lo vediamo La car wave L'abbiamo vista Che su tutte le macchie Però la prendiamo Giusto Giusto per prenderlo La moto Vabbè La battemobile Questa sì Questa sì Questa sì Questa sì Questa sì Il jet privato No Il passenger plane No Questa sì Questa sì Questa sì Questa sì Questa sì Ok Tutto quanto abbiamo visto Proviamo il jet Quanto grande è il jet È bello Ecco È bello grande Questo qui È piccolo Non tanto grande Però io voglio provare il jet Se ovviamente posso entrare Ma non credo Sì posso entrare Però è meglio che mi metti in prima persona Se no non riesco a vedere niente Ok Forse se stai online Puoi entrare con più persone nel jet Non lo so Sono su posizione che faccio Mi sono lanciato Vabbè È questo qua il jet Molto bello Poi c'è la motociclette Che è la motociclette molto basic Che è normale Del motociclisti molto bella Non è fatta bene Cioè nel senso Non è una moto molto bella Della moto GP per esempio Molto bella No È una moto dei motociclisti normale Con un colore molto brutto Che non mi piace Ma va bene così Car wave Che cacchio è la macchina di torno a futuro Che è? Vola? Perché? Perché io vado via sempre? Come fa? Vola sta macchina? C'ha le ruote storte Questa è una cosa connotata Ma A vola non vola Così No ok È una macchina normale Cioè solo le ruote storte Vabbè E poi abbiamo il raft Che va provato ovviamente Nel mare Giusto per il gusto di provarlo Lo andiamo a provare Proviamolo qua C'è un piccolo pozzo d'acqua Lo abbiamo qui Cacchia c'è me lì Ai raft sarebbe il coso Vabbè E' una cagata Vabbè comunque Siamo riusciti a visitare Credo la maggior parte di Tutta la mappa Era una mappa bella Non bella come Tokyo Non è bella come Tokyo Non aveva le cose che c'aveva Tokyo Ma ha un botto di cose belle C'aveva il coso che Che scavava C'aveva gli aeroplani C'è un botto di roba Ragazzi c'è questa mappa C'è un botto di roba E' una bella mappa Se ci volete giocare online Con i vostri amici E' perfetta Mi è piaciuta Mi è piaciuta Ma di nuovo Tokyo è molto più bella Comunque Qualche video vi sia piaciuto Se così forse Lasciate un bel like e sapete al canale Noi ci vediamo per i suoi video di Minecraft E nulla Ciao ragazzi E mi raccomande Lasciate un like Un bel like Iscrivetevi al canale Dun dun Mi raccomande Ciao 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 Ciao